buongiorno a tutti ci troviamo presso la stazione frattini questo è piano atrio della stazione queste sono le scale di accesso al piano banchina questa stazione è dotata di una serie di accessi scale mobile fissi all'interno della piazza frattini abbiamo un accesso al lato sud dotata soltanto di scale fisse al lato nord abbiamo invece un accesso dotato di scale fisse e scale mobili inoltre dotata di un ascensore è un nodo di interscambio con le linee di autobus di superficie in questa fase all'interno della stazione si stanno ultimando le opere civili dei corridoi di collegamento con le scale esterne alla stazione mentre all'interno si stanno all'essendo impianti termici di antincendio e di ventilazione servizio della linea m4 questo momento ci troviamo al piano banchina della stazione le scale mobili sono già state montate installate mentre è prevista l'installazione di un sistema di porte a chiusura automatica per consentire l'accesso in sicurezza degli utenti della metropolitana